La perizia sulle cause del cedimento ad Amalfi che ha provocato l'interruzione della strada statale 163 sarà fondamentale per poter stabilire la causa della frana e soprattutto per poter avviare un giudizio e rendere possibile l'avvio delle attività di messa in sicurezza. È previsto per questo fine settimana l'arrivo nella città costiera del consulente della procura di Salerno Settimio Ferlisi, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno che dovrà accertare con rilievi tecnici cosa ha provocato ed eventuali responsabilità la frana che lo scorso 2 febbraio ha spezzato in due la strada statale 163, la principale arteria di collegamento che inusce i centri della costiera amalfitana. Ad oggi il cantiere è sotto sequestro, sono stati compiuti solo gli interventi necessari per eliminare i pericoli con la demolizione dei corpi rimasti sospesi e la rimozione dei materiali franosi, massi e fango. La perizia del consulente tecnico Ferlisi che sarà consegnata in procura servirà per delineare un percorso che possa portare in tempi brevi all'avvio dei lavori di messa in sicurezza e di ripristino della circolazione stradale che al momento si aggirerebbero in circa tre mesi di lavori almeno fino a giugno. La questione è stata affrontata ieri anche dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ha avuto un confronto con l'amministratore delegato Massimo Simonini e i vertici di ANAS sulle priorità di intervento per gli assi viari della Campania. In primo plano proprio le emergenze come i collegamenti in costiera amalfitana. Di sequestro dell'area e ripristino della viabilità è quanto chiede anche il delegato della FENAILP, la federazione nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti operanti in tutti i settori della micro, piccola e media impresa di Amalfi, Franco Florio, in una missiva trasmessa alla procura della Repubblica di Salerno, al presidente della regione Campania della provincia di Salerno, al sindaco di Amalfi Daniele Milano, in relazione ai lavori di messa in sicurezza del costone roccioso franato lo scorso 2 febbraio e il ripristino della carreggiata della strada statale amalfitana. Il crollo di una parte del nostro territorio ha scritto Franco Florio in una lettera che ha spezzato la costiera amalfitana in due parti sta provocando ingenti danni all'economia della città già provata dall'emergenza causata dal Covid. A tali danni si aggiungono quelli relativi alla sicurezza sanitaria della popolazione e degli operatori fortemente preoccupati per le conseguenze che potrebbero essere causate dal raggiungimento in tempo utile ai vicini nosocomi di Salerno, Cava dei Terreni e Sorrento. Pur apprezzando tutti gli sforzi, afferma Florio, bisogna fare più in fretta. I tempi previsti sono estremamente lunghi per la soluzione dei problemi, anche in considerazione di eventuali imprevisti che potrebbero sorgere nel corso dei lavori di consolidamento del costone.